Avviata la campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono di rifiuti ingombranti in città, Comune Nisseno e Dasti uniscono le forze per combattere il fenomeno. Ci si rivolge ai cittadini, così come è avvenuto nelle settimane passate, anche attraverso dei punti informativi. I prossimi appuntamenti sono sabato 15 ottobre al mercato settimanale, domenica 16 in piazza Falcone Borsellino, dalle 10 alle 12. Ogni gesto ha una conseguenza, prenditi cura del tuo ambiente e non abbandonare i rifiuti. E' questo l'invito che si legge nei manifesti in cui vengono spiegate le modalità di conferimento di ingombranti e RAE e anche di residui di potatura, dunque erba e ramaglie, usufruendo gratuitamente dell'isola ecologica mobile nel caso di rifiuti di piccole dimensioni, oppure dell'ecocentro comunale, che sarebbe il centro di Contrada Cammarella, o ancora richiedendo senza alcun costo il ritiro a domicilio, chiamando il numero 800 164 722 oppure il numero 095 29 38 520 e nel caso di rifiuti organici anche la compostiera è incomodato d'uso gratuito. Abbiamo visto che nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, è aumentato quello che è l'abbandono indiscriminato di rifiuti in tutte le strade della città e non solo, anche nelle strade limitrofe al centro urbano. Questo comporta notevoli disagi all'intero servizio e alla cittadinanza. Stiamo facendo questa campagna proprio a sensibilizzare l'intera cittadinanza, a far capire che basta fare una chiamata e prenotarsi per il ritiro degli ingombranti o, considerando anche i tempi, che non sono sempre, posso dire purtroppo che non sono brevissimi, portarli gratuitamente al CCR, dai mobili a materiale ferroso, oltre alla carta, la plastica. Abbiamo la possibilità anche degli sfabriciti, se c'è qualche piccolo lavoretto che qualcuno fa a casa, quindi può portare sempre piccole quantità, non parliamo di grosse quantità. Abbiamo gli sfalcipotatura, anche quello, stiamo facendo la campagna proprio sugli sfalcipotatura, perché anche lì abbiamo visto che, conservando le zone limitrofe, la gente fa servizi di giardinaggio e poi va lasciando materiale sparso ovunque. Anche lì abbiamo, tramite prenotazione, il servizio del ritiro porta a porta. Una cosa che però mi preme dire è il fatto che noi ritriamo non grossissime quantità, perché magari la gente si lamenta perché i tempi sono lunghi, sono lunghi perché la gente ci fa trovare camionate di sfalci di potatura. Noi possiamo ritirare piccole quantità, in modo da fare più ritiri e dare il più servizio possibile alla cittadinanza, perché purtroppo più materiale riusciamo a ritrare, meno ritiri riusciremo a fare. È possibile accedere al CCR di Contrada Cammarella da lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13 e il pomeriggio quando la prenotazione è necessaria solo per la differenziata dalle 14.30 alle 17.30. L'isola ecologica mobile invece è attiva in vari punti della città tutti i giorni, da lunedì al sabato dalle 7 alle 14 ed in particolare lunedì in via Maestri del Lavoro, il martedì in piazza Santa Flavia, il mercoledì a Santa Barbara, il giovedì in via Vittime del 9 luglio, il venerdì in via Fasci Siciliani e il sabato a Pian del Lago.